Bentornati, dopo aver fatto gli anelli adesso andiamo a fare il coperchio e il fondo per fare questo non faremo nulla eccezionale, costruiremo semplicemente un cubo e lo trasformiamo in un asse poi quest'asse la metteremo qua in alto e la taglieremo in modo tale che segua un po' il profilo una cosa più meccanica che non c'è nulla di nuovo quindi andiamo, 7 vediamo dall'alto, Object Mode, facciamo Shift A e introduciamo un cubo, questo cubo avrebbe dovuto comparire il centro no problem, facciamo Clear Location vediamo uno di fronte, non è che lo vediamo molto quindi facciamo Z, lo vediamo ai raggi X quindi prendiamo questo cubo, lo portiamo in alto dove vogliamo che faccia effettivamente la nostra asse cominciamo anche in Object Mode a fare SZ per ridurlo in dimensioni lo spessore di un asse SX lo alziamo in modo tale che sia più o meno delle dimensioni che ci interessano ok, ora a questo punto, visto che lo modificheremo pesantemente andiamo poi in Edit Mode, così siamo sicuri di toccare solo lui lo spostiamo un pochino più in alto ok, e poi facciamo tutto un pochino di cose quindi facciamo SX ecco, spostiamolo in modo tale da coprire questo e poi B sui magari lo facciamo leggermente più alto e poi SX attenzione a ricordarvi la X perché altrimenti vi modifica anche proprio lo spessore quindi dovete per forza fare SX per modificarlo poi facciamo L se faremo mai a selezionare un punto e fare L ok, per selezionare tutte le parti connesse facciamo Shift D e poi con Y direi ci spostiamo questa coppia un po' più sopra ok e poi andiamo a taroccare questo SX lo restringiamo A B questo SX lo restringiamo fino a qua poi mettiamo meglio selezioniamo un punto L eh Shift D e andiamo a fare l'ultimo pezzo Y lo spostiamo in alto ok e poi andiamo a selezionare questi ultimi punti ok SX abbiamo detto facciamo qua A B avete notato che sto usando sempre la cosera GX così vedo abbastanza bene dove sono SX lo facciamo un po' corto così e poi visto che ecco facciamo così però SX un po' più largo ok quindi abbiamo fatto questa cosa qua se non ci piacesse vedete che qua viene fuori una sorta di buco che non va bene allora possiamo sempre fare per dire un CTRL R aggiungere un extra loop in via e poi questo extra loop ci permetterà SX di chiudere quindi risulterà che quell'asse lì è tagliata due volte mentre queste assi sono tagliate così torniamo a 7 ora ah qui forse è troppo grosso la distanza fra questo e questo quindi selezioniamo questo L non era L andiamo andiamo sempre qua modificare con B ok lo facciamo un pochino più vicino ok poi se volessimo renderlo simmetrico potremmo anche fare lo stesso gioco per sotto ma possiamo anche aggiungere un modificatore piccolo modificatore mirror se lo trovo so che esiste eccolo qua ecco mirror e lo applichiamo qui però lungo la Y quindi Y e vedete che questo mi raddoppia mi genera questo altro parte qui abbiamo un altro piccolo problema Z dobbiamo togliere questo piccolo buco centrale quindi selezioniamo questo avviciniamo un pochino di più ok quindi a questo punto abbiamo praticamente il fatto il nostro coperchio se volessimo quindi adesso facciamo in object mode quindi se a questo punto vedendolo da qua abbiamo un Z vedete che ce l'abbiamo questo signore facciamo semplicemente shift D Z e lo spostiamo anche sotto e così abbiamo un baule cioè un barile che è chiuso sia sopra che sotto ed è fatto con delle assi quindi a questo punto se noi andiamo a vedere tutta la nostra realizzazione formata fondamentalmente da a oltretutto adesso io l'ho fatto basandomi sul sull'attis già applicato ma se pensiamo di modificare fortemente anche la struttura dell'attis sarebbe potevamo farla sulla struttura originaria del cerchio del cilindro senza senza il lattice e poi gli associavamo anche il modificatore ora se qui noi andiamo a quindi selezionare a selezionare tutto quindi qui salviamocelo solo per fare un conteggio quindi barile hipoli parte 3 ecco e poi possiamo applicare tutti i modificatori se siamo felici contenti notare che adesso se dovete fare la texturizzazione vi conviene per il momento ancora tenervi tutte le versioni intermedie perché probabilmente bisognerà poi fare apply, scale e rotation e fare comunque tutta l'uvimapping che in tutti questi tre video non abbiamo fatto quindi ci saranno poi altri video per la texturizzazione va bene però tenete conto che adesso noi abbiamo fatto in sintesi quindi in object mode se noi selezioniamo questo più questo più il il cubo questo che sarebbe il coperchio poi abbiamo questo cubo che sarebbe il fondo quindi coperchio e fondo coperchio fondo shift click e doga e qui vedete che siamo arrivati a un e poi ci sono ancora gli anelli quindi vediamo un po' gli anelli agli anelli erano unici quindi anelli questi ecco in totale dovremmo essere sugli 864 vertici che sono un pochetto di più rispetto a quelli che abbiamo visto nella versione lo poli ma non tantissimi quindi in realtà il gioco di aggiungere dettagli alle cose che fate può valerne la candela nel senso che non aggiunge tantissimi vertici in realtà dovremmo applicarle quindi magari applichiamo tutti i nostri modificatori in un object mode quindi apply questo doga facciamo le apply 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 magari nell'ordine giusto quindi applichiamo prima questo poi questo infine questo ok e quindi quindi a questo punto sono tutti associati questo ok quindi facciamo shift questo ok direi che ci siamo sono tutti questi quindi 864 vertici è tutto ci vediamo nei prossimi video per la texturizzazione